PORO 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 Walter! Mamma! c'è Stefano! Ma tu che ci fai qua? Perché non vai a suonare? Suonare è quello che sai fare Sì il disco Prima Via! Andate piano! Perché? Disturbio della cute pubblica, guida pericolosa Me l'hai insegnato tu a fare le sgommate a me, te lo ricordi? Eri più grande ed efficiente Giardo, vaffanculo, non avevi neanche finito le medie In due anni ho riscontrato tutto qua Mi ha parlato di fallimento Domani mattina ci vediamo alle otto e cerchiamo di sapere cosa è successo C'è otto e mezza, adesso alle otto Siete con te che non va con una? Troppo Qua ci vuole Natin Andiamo in camera Sono tre mesi che non prendo lo stipendio Ho promesso a Alberto che ancora per due settimane non dico niente a vostro padre Vai, vai, vai Tutto bene? Sì Ah, bene Se avete bisogno potete contare su di me Ecco, in effetti Paolo, ci servono 300.000 euro Ma tu hai capito che lavoro faccio io? No Ecco, è un momento in cui tutti devono dire la verità Ho credito papà Com'è? Sono venuto qui, avevo bisogno... Avevo bisogno con me Non così tanto Non così mania No